Nessuna pausa per la politica abruzzese, nonostante il periodo vacanziero. Partiti, movimenti civici e singoli esponenti cercano di posizionarsi per le prossime elezioni regionali tra ipotesi di alleanze, sondaggi poco attendibili per mancanza di liste di candidati, ricorsi e ambizioni personali. Secondo le intenzioni di voto censite recentemente da una società di comunicazione, ricerca e marketing, se si votasse domani, gli abruzzesi sceglierebbero la pentastellata Sara Marcozzi alla presidenza della regione, mentre il centrosinistra crollerebbe al 24,9% con il PD al 21,2%. Nel centrodestra ci sarebbe il balzo in avanti della Lega al 20,8% e il flop di Forza Italia al 5,7%. Sempre secondo il sondaggio, le liste civiche collocate prevalentemente nel centrodestra sfiorerebbero il 20% e il più votato sarebbe in quell'area Fabrizio Di Stefano, mentre gli indecisi supererebbero il 30%. Naturalmente il condizionale è d'obbligo, poiché non si conoscono né gli sfidanti né la data della sfida. Anzi, dopo la sentenza emessa dal Tribunale dell'Aquila, che ha dato ragione al presidente Luciano D'Alfonso sul doppio incarico di governatore e di senatore, la data delle elezioni è diventata ancora più incerta. I magistrati, infatti, hanno accettato in pieno la difesa di D'Alfonso basata sulla circostanza che lui non può opettare per l'uno o per l'altro incarico prima che la giunta per le elezioni del Senato non certifichi la sua elezione a Palazzo Madama. Indignati i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, presentatori del ricorso contro il governatore, e costretti perfino a pagare le spese legali. Sara Marcozzi ha comunque annunciato ricorso alla Corte di Appello. Dunque il dubbio sulla data del voto resta, ma dal Ministero dell'Interno hanno fatto sapere che in pochi giorni la giunta per le elezioni ufficializzerà l'elezione di D'Alfonso, che a quel punto dovrà scegliere o la Regione o il Parlamento. Se tutto avvenisse prima della pausa di Ferragosto, dicono ancora dal Ministero, si potrebbe votare entro il prossimo mese di novembre.